In quest'altro video tutorial andremo a parlare della sezione delle precedenze, per cui abbiamo visto già come si caricano i servizi di anzianità. Nella sezione anzianità di servizio abbiamo parlato di esigenze famiglia, di titoli generali, della scelta di tipo di posto che abbiamo detto essere obbligatoria delle preferenze e dell'indicazione degli allegati, della gestione del servizio degli allegati. Manca proprio la sezione delle precedenze. Diciamo anche che in queste domande per ogni sezione deve esserci riferimento appunto proprio di un allegato, per esempio l'anzianità del servizio si indica l'allegato D, che per la scuola primaria dell'infanzia è l'allegato D della scuola primaria che si riferisce anche all'infanzia. Per le esigenze di famiglia va fatta una autodichiarazione sotto la propria responsabilità in cui si indicano gli stati di ricongiungimento, la richiesta di ricongiungimento e dell'esistenza dei figli. Per quanto riguarda i titoli generali va fatta anche una dichiarazione sotto la propria responsabilità in cui si indicano tutti i titoli che si sono dichiarati in domanda. Per quanto riguarda la sezione precedenza andiamo ad aprire questa sezione. Vedete ci sono tutte le possibili precedenze riferite all'articolo 13 del contratto collettivo nazionale integrativo proprio sulla mobilità. Vediamone alcune. Per esempio il docente gode di una priorità assoluta di una precedenza se è stato trasferito a domanda condizionata o in mobilità d'ufficio. C'è questo istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni, dunque nell'ottenio, perché sovrannumerario ha diritto al rientro. Per cui per esempio se nella provincia di Reggio Calabria questo docente aveva come perdita di posto un dato istituto, per esempio il liceo scientifico delle scienze umane di Locri emette questa dizione e con precisazione del tipo di posto, posto comune, ha diritto al rientro in quella scuola. Attenzione perché dovrà indicare come prima priorità proprio nelle preferenze della scuola di riferimento. Poi il docente per esempio soffrisce la precedenza per i non vedenti, se sì metterà sì, altrimenti no. Questa è una precedenza che vale su tutte le fasi, cioè precede e anche rispetto alla fase. Come anche precede rispetto alla fase il docente, la precedenza prevista per i docenti emodializzati. Articolo 61 della legge 270 dell'82. La casella 26 si riferisce alla precedenza per chi ha l'articolo 21 della legge 104, articolo 3,1. in sostanza chi è una persona disabile che abbia una disabilità con percentuale superiore ai due terzi, gode di una precedenza e deve indicare su quale provincia gode di questa precedenza. chiaramente può anche, se non ce l'ha, non inserire, non selezionare nessuna provincia, oppure selezionare la provincia a seconda della provincia in cui gode di questa preferenza. Il docente soffrisce la precedenza prevista per gli eventi necessità di cure continuative a carattere continuativo, appunto cure a carattere continuativo anche se non persona disabile. Deve indicare sì e deve chiaramente documentare tutte queste, questo tipo di precedenze. Poi c'è la precedenza per le persone disabili, articolo 33,6, che parla di uno stato di gravità del docente che ha una grave patologia. C'è anche la possibilità dell'assistenza al figlio, al coniuge e in tal caso anche al genitore ma solo nel caso del trasferimento a carattere provinciale. Ecco, vediamo per esempio nella numero 30 la precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare che è stato trasferito d'ufficio e dunque il coniuge ha la precedenza per seguire il proprio marito o la propria moglie nella provincia in cui è stato trasferito d'ufficio. Poi abbiamo ad esempio il riferimento all'articolo 18 della legge 265 del 99 che è riferito a chi occupa un ruolo politico come il sindaco è stato eletto o nominato in una carica politica e allora ha diritto alla precedenza. Ecco, queste in grandi linee sono le precedenze che possono fruire il personale del docente che fa domanda di mobilità. Seguiteci ancora perché parleremo di questi temi anche perché fino al 15 marzo è possibile presentare la domanda di mobilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.